Benelli Antonio, proprietario dell'azienda Il Campino. Questa bottiglia fa parte delle 2000 bottiglie totali che si produce. Sono il più piccolo produttore del Chianti Classico. L'azienda è nata nel 1814 e poi si è sempre tramandata di padre e figlio fino a oggi, che anche oggi praticamente esiste l'azienda con cura, con passione e con gioia. Il territorio nostro è bellissimo, con un'altitudine di circa 300 metri e il prodotto viene buono. La vendemmia si fa magari in due o tre volte perché si sceglie tutti i grappoli buoni per fare il Chianti Classico. Poi si rilassa un'altra e magari mentre si aspetta quell'altro, altri giorni di vendemmia, ancora quella che è più indietro dell'uva riesce a maturare. Quando si vede il prodotto bellissimo è una gioia. Il mio futuro è che loro prendano in mano tutto. Io lascio, tutti mi diano non da aiutare questa azienda, però se il mio figlio e il mio nipote saranno loro che vorranno proseguire. Grazie. Grazie.